Un incontro urgente per conoscere i tempi di inizio dei lavori di riqualificazione di via indipendenza e la richiesta avanzata dal Comitato Civico e Ambientale presieduto da Cosimo Panico che dopo le numerose istanze inviate all'ente torna a sollecitare interventi urgenti per mettere fine ai numerosi disagi segnalati dai cittadini sull'arteria in questione. Fra questi marciapiedi con pavimentazione sconnessa, illuminazione elettrica obsoleta, interi tratti che di sera restano completamente al buio, asfalto dissestato, carenza di canali di scolo per far defluire l'acqua piovana. Già nove anni fa, spiega Panico, via indipendenza figurava nei piani triennali delle opere da risanare ma puntualmente ne veniva estromessa. I residenti sono contribuenti al pari degli altri cittadini ma in cambio ricevono soltanto disservizi in curia e invivibilità.